Siamo con l'ultima intervista a Luis, eccolo qua che arriva, adesso cerchiamo di capire se sei commosso. Per me sei commosso, te lo dico, si vedeva dall'alto e sono stati dei momenti molto 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 particolari. Sei commosso, partiamo da qua, perché è stato tutto quello che c'è stato oggi molto bello per te, da parte di tutti. Non si va a commuovere uno con tante dimostrazioni di affetto, è impossibile. Un ingresso trionfale con qualcuno che ti ha fatto gli scherzi, se vuoi ti facciamo vedere così sai chi ti ha dato i calci perché non te ne sei accorto, che ti facevano i dispetti. Non mi ho accorto di niente. Andava bene tutto? Sì, tutto perfetto, credo che è stato un giorno memorabile per ricordare tutta la vita e è bello quando uno finisce così. La fascia di capitano che ti ha regalato Javi? Che non volevi? No, perché è troppo rispetto a lui, però guarda, è stato un momento unico, anche poter essere capitano a alcuni minuti di queste grandi istituzioni, è stato uno del momento bello che è successo oggi. Domande per Luizio, lascio a voi. Ma allora Luizio, sono Edoardo, ma che fai adesso? Tanto è questo che ti vogliamo chiedere a tutti quanti. Si può dire, hai deciso, hai qualche idea? No, adesso ancora non so cosa vado a fare. Sicuramente vado in vacanze tranquillo con la famiglia, però sempre insieme all'Inter perché mi ha dato tanto questi ultimi quattro anni di mia carriera che è impossibile non stare insieme. Senti, pensavi di stare a Milano così tanto quando ci sei arrivato? La verità no, è venuto per due anni, è stato quattro. Otto titoli? Sì, questo è lo più importante, abbiamo cominciato un ciclo di titoli importanti in una società e speriamo che sia così durante tanti anni. Luizio, tanti momenti belli qui all'Inter, quello che porterai nel tuo cuore? Lo che porterei nel mio cuore è sempre l'affetto che ho ricevuto di tutta la gente desde il primo giorno che è arrivato qua. Dopo l'affetto del presidente, del mio compagno che lo porterei nel mio cuore, credo che è stato senza dubbio quello che mai vado a dimenticare questi quattro anni insieme a questa gioia che è il vestuario dell'Inter, che non ha permesso di cominciare un ciclo, come ha detto, vincente, perché se non fuori con questi gruppi, con questi uomini, credo che era più difficile. Non si è mai visto in una partita ufficiale un'uscita dal campo con tutti che si fermano, l'arbitro, gli avversari che vengono tutti a salutarti. Queste cose di solito succedono nelle gare come quella che farà Ginevra nel 14, cioè le gare di addio ma friendly match. Mi sento un po' con la vergonza di che è successo, perché io sono uno tanto estrovertito in questi momenti. per lo guardo tutto dentro e sicuramente nei prossimi giorni uscirà tutto, perché sono tanti momenti emozionanti che adesso non ho parole per esprimere. Penso che possiamo salutarlo con un grazie. Sì, sì, un abbraccio. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Luis. Tanto ti ritroviamo. Sicuro. Allora. Grazie a Luis Figoli e a voi.